E' sempre per me una fatica a rinunciare all'ascolto dei Wilco, tra l'altro erano proprio le primissime note di questa shot in the arm da Summer Thieves, disco uscito il 9 marzo del 99 per Reprise Records, ma alle 10.41.32 comincia la seconda parte di almeno due pagine al giorno, ma non voglio far aspettare un secondo in più l'ospite che è qui con noi oggi, sono davvero onorato, per me è un privilegio poter dare il benvenuto su RBA a San Diego. Sante Bandirali in collegamento con noi. Ciao Sante, buongiorno, benvenuto su RBA. Ciao Francesco e grazie a te. Allora, intanto perché oggi siamo qui nello spazio delle interviste di almeno due pagine al giorno con Sante Bandirali. Sante Bandirali è innanzitutto un appassionato editore con una casa editrice uovo nero e che seguiamo da sempre, insomma, per un lavoro preziosissimo. E anche rispetto ad un progetto, correggimi se sbaglio, Sante, anche di laboratorio, di scrittura, se vogliamo, l'officina Babuc, ma traduttore valente, insomma, vincitore di diversi premi. Insomma, l'obiettivo adesso qui non è, come dire, un atteggiamento di piageria nei confronti di Bandirali. Insomma, andate a cercare il lavoro quotidiano di Sante, insomma, vi renderete conto di quello che sto dicendo. Ma in realtà ne abbiamo parlato, se ci seguite con una certa costanza, anche al Salone del Libro, con Marco Simarcos, con Marco Zapparoli. Siamo qui a raccontare il primo romanzo di Sante Bandirali. Ecco qui la copertina illustrata da Ilaria Voghera, Papiro, uscito appunto per Marco Simarcos il 22 maggio 2024. Allora, intanto, insomma, mi tolgo subito il dente, ti dico che è un libro che mi ha divertito molto, un libro che mi ha fatto anche pensare moltissimo al mondo, diciamo, degli intellettuali, al mondo della cultura, al mondo delle biblioteche, se vogliamo, no? Ma anche al rapporto che abbiamo con l'oggetto, con il libro in generale. Intanto però partiamo dai due protagonisti che danno il via, diciamo, alla storia, cioè Sofia Savi e Brando Cerberoni, che sono due valentissimi di fama chiarissima, due intellettuali, diciamo, di fama chiarissima, che in realtà a un certo punto vogliono mettere insieme dei geni da Champions League, diciamo, consentimi, diciamo, l'affermazione, per, diciamo, portare avanti quella stirpe, diciamo, di intellettuali valentissimi. Partiamo da qui, insomma. Chi sono i due, Sofia e Brando, e cosa si mettono in testa ad un certo punto di fare? E soprattutto, perché ti è venuto in mente di scrivere Papiro, sostanzialmente? Sofia e Brando sono due, come giustamente detto, due grandi intellettuali da Champions League, di quelli che hanno una fede assoluta nella scienza, nella conoscenza, che hanno successi un po' in tutti i campi del sapere. Intuiamo dal libro che Sofia è un po' più orientata alle scienze esatte, Brando un po' più verso l'umanesimo e le discipline umanistiche, però in realtà nessuno dei due ha confini nel proprio sapere. E a un certo punto pensano proprio di rendere un servizio, oltre che a se stesse, all'umanità, creando, generando il figlio che, provenendo da loro, non può che essere il figlio perfetto. Ovviamente non lasciano nulla al caso, anzi lasciano al caso un unico dettaglio, perché sono anche molto progressisti, sono di mentalità molto aperta, quindi non hanno preferenze per il sesso del nascituro. Può essere maschio o femmina, ma è l'unico dettaglio che viene lasciato al caso. E per il resto, in modi che al lettore sono anche un po' incomprensibili, un po' oscuri, decidono di progettare e di fare tutta una fase di preparazione per giungere a quello che è l'atto copulativo perfetto, che dura tre secondi netti, e da cui, per l'appunto, nasce l'embrione, l'incontro tra spermatozoo e ovocito, che genera l'embrione, che poi nove mesi esatti dopo porterà alla nascita di questo figlio. I due nomi che sono in ballottaggio sono Pergamena se sarà femmina, Papiro se sarà maschio, come il titolo del libro ci lascia già intuire, nascerà Papiro. Ecco, Sante, sia Sofia che Brando hanno le idee chiarissime su, insomma, anche di che tipo deve essere questo figlio, perché evidentemente unire i geni significa, insomma, mettere a sistema, come dire, un talento pazzesco, diciamo, anche di entrambi, l'abbiamo detto da poco. Lei, insomma, la madre dice spesso, o la futura madre dice spesso anche alla sua vicina di casa, che, insomma, stanno costruendo il futuro dell'umanità. E, insomma, c'è tutto un racconto che ovviamente noi non faremo, perché la bellezza di questo libro sta proprio nella costruzione anche degli eventi e dei capitoli. Però, insomma, ovviamente possiamo soltanto dire che in realtà è del titolo di uno dei capitoli, diciamo, il Papiro, e, diciamo, nasce dopo un parto alquanto singolare, perché immagino che tu ti sia divertito a immaginare, diciamo, tutta una serie di situazioni che, insomma, incrociano anche chi è genitore, insomma, o anche chi non lo è, che immagina, li vede, diciamo, i mondi che tu hai costruito dentro questo libro e sono molto, molto chiari e c'è di fondo un'ironia che rende questo libro davvero, e spero che sia, come dire, un valore aggiunto per te, un libro davvero molto, molto divertente, Santi. Io ho effettivamente voluto far sorridere il lettore perché ci sono anche delle cose che fanno riflettere all'interno del libro, ma secondo me se riflettiamo su temi anche molto importanti, con un sorriso sulle labbra, li avviciniamo più facilmente, siamo più portati a restarci anche sopra. e nel caso del parto, anche qui, il parto chiaramente è un evento epocale perché si sa che quello che sta per nascere sarà il più grande genio dei prossimi tre millenni. Quindi ecco perché loro si presentano, Sofia ripete spesso questa frase che stanno lavorando per l'umanità, è proprio nelle loro intenzioni, d'altra parte con due così, con due genitori come questi, non può essere diversamente. E quando il bambino nasce c'è molto trambusto in questa sala parto, addirittura c'è Sofia che si prepara utilizzando della musica, lei vuole calarsi completamente nell'ascolto del secondo movimento della sinfonia K550 penso al minore di Mozart, perché pensa che questo ritmo aiuterà le spinte, ma soprattutto perché questa cosa dura 8 minuti e 40 secondi e lei spera di calarsela anche in molto meno tempo di questo e così sarà. L'unico che nota qualcosa di strano è proprio Brando, il padre, nemmeno l'equip del grande medico che si occupa della nascita scopre niente, perché tra l'altro anche qui ho voluto giocare con la lingua per dare un po' la sensazione al lettore del caos, del caos che si è creato all'interno di questa sala. E filtra poco anche alla troupe di giornalisti che è in attesa fuori, semplicemente riescono a percepire che il parto è stato singolare. Brando percepisce qualche cosa di strano, ma all'inizio vede questa particolarità, questa cosa strana, che possiamo dirlo perché non spoilerano nulla, cioè Papiro non piange quando viene alla nascita e Brando dice che è già il primo segno del grande successo di quello che stiamo facendo. È un bambino che non piange come tutti gli altri, è già molto più avanti e addirittura questo ci permetterà di portarlo subito con noi nei convegni, nelle conferenze, esporlo subito a quel fiume di sapere e di conoscenza che sarà il suo naturale destino. Il suo naturale destino, siccome in realtà anche nei materiali che accompagnano la comunicazione dell'uscita del libro c'è una citazione, la condividerò tra poco perché è tra l'altro una frase che mi accompagna tutte le mattine su una tovaglietta di un progetto di Marco C. Marcos All You Can Read, del quale abbiamo parlato anche con Marco Zapparoli e che vi consiglio di recuperare anche sul sito di Marco C. Marcos ma in ogni caso gli elementi che mi hanno fatto anche molto sorridere riguardano anche una sorta di riflessione molto spesso su quanto siamo a volte un po' ingenui o comunque anche un po' stupidi nelle cose che facciamo o nei regali che facciamo c'è una parte dedicata ai regali per esempio fatti diciamo dagli amici, dai parenti che è davvero molto divertente che mi ha fatto riflettere molto su quanto diciamo dal rapporto che abbiamo anche con i regali quel traffico di tisane mi ha fatto anche molto 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 sorridere per cui ti ringrazio davvero di aver usato questa chiave diciamo questo registro ma al di là di questo diciamo il libro è gustosissimo cioè si legge diciamo con una con il vero diciamo sperimentando il vero piacere per la lettura questi sono i libri che vanno letti per stare bene mi viene da aggiungere e ti chiedo scusa per la retorica ma è un libro che è dedicato anche a tutti coloro che come dire sono atleti della mente io penso anche a mio figlio diciamo e che hanno un rapporto molto molto a volte anche molto fisico con i libri e un altro mondo che tu incroci e non dirò di più è quello dei bibliotecari ci sono librerie, ci sono biblioteche in questo raccontati con grande amore evidentemente la centralità del libro va ancora e ancora e ancora una volta ribadita e questo libro lo fa in maniera splendida dal mio punto di vista è stato definito da diversi commentatori un metalibro in effetti è vero è un libro che parla di libri e che sicuramente nel quale sicuramente si riflette quello che è il mio amore per la lettura ancora prima che editore e come scrittore nasco lettore secondo me non può che essere così per chi poi vuole dedicare la propria vita a questo a questo settore e all'interno del libro ci sono tantissimi riferimenti a volte espliciti perché si parla proprio di certi libri che finiscono nella vicenda a volte finiscono nelle mani di Papiro e non solo nelle mani e altre volte invece sono delle citazioni che finiscono dentro il testo in modo molto trasparente chi le vuole cogliere le coglie non è necessario che vengano colte però crea sicuramente un gioco di specchi letterari che accontenta secondo me lettori anche molto diversi fra loro può essere apprezzato a molti livelli diversi di lettura ecco diciamo tu parlavi della scena dei regali effettivamente mi sono molto divertito immaginare questi due che sono talmente impegnati talmente affaccendati nelle proprie professioni che non hanno tempo di aprire i regali loro hanno dato una semplice indicazione non fate regali troppo da bambino perché Papiro non ne ha bisogno lui deve bruciare le tappe e quindi via tutte queste cose che possono solo rallentare il suo sviluppo anche l'abbecedario no? anche l'abbecedario è in realtà uno strumento per loro quasi banale diciamo addirittura pericoloso bisogna tenerlo alla larga da questo meglio dagli Wittgenstein esattamente come a un certo punto peraltro nel libro accade e quindi non hanno tempo e iniziano ad accatastare questi regali fino al punto in cui un giorno quando Sofia rientra si accorge che Brando ha finito di coprire di costruire una scenografia dei Pink Floyd praticamente cioè un vero e proprio muro all'ingresso della camera di Papiro quindi non sa dove mettere il bambino e questo è ciò che li fa decidere che una buona volta devono aprire questi pacchetti queste scatole e qua escono tutte c'è tutta una serie di cose interessanti che ci fanno un po' riflettere appunto anche sul senso del regalo ed è anche interessante prego prego sull'importanza delle tisane su quella pandemia delle tisane diciamo comunque è anche interessante il modo in cui tu con grande classe secondo me riesci a prendere in giro anche il mondo degli esperti diciamo nel mondo della sanità che cercano anche di comprendere alcune cose diciamo se vogliamo dell'indole delle peculiarità diciamo così che tu definisci in questo modo di papiro dentro il libro insomma questo lo riscontro anche nella vita quotidiana e questo è un libro che racconta di vita quotidiana abbiamo sempre la necessità o comunque il mondo la necessità sempre di etichettare in qualche modo soprattutto i bambini soprattutto i più piccoli e questa è l'impressione che ho avuto leggendo anche il tuo libro che ne dici Sante? Sono molto d'accordo c'è sicuramente un'iperetichettatura nella realtà di oggi che pensiamo a tutti i disturbi che vengono diagnosticati e c'è anche secondo me e questo esce a un certo punto nel libro una tendenza da parte dei professionisti a ricondurre ogni cosa al proprio ambito di competenze per cui ogni anomalia di quell'anomalia si vede soltanto quella parte per la quale si può intervenire ed è questo che porta a un certo punto una cosa che non abbiamo ancora detto è proprio che papiro alla fine così perfetto come lo volevano non è ed è questo poi il motore che conduce i due in una serie di esperienze all'interno del libro e all'inizio della loro indagine per capire il perché di questa anomalia di papiro si ritrovano con una collezione di diagnosi molto diverse addirittura spesso anche in contrasto fra di loro ottenute da una serie di specialisti dove ciascuno non riuscendo a spiegare quello che che vede perché scopriremo poi che è una cosa unica quella che ha papiro è il primo e unico caso conosciuto al mondo e quindi questi specialisti non hanno l'umiltà di riconoscere il proprio limite e dire che non sanno di che cosa si tratti ciascuno prende quel poco che vede e lo riconduce al proprio campo e quindi gli psicoanalisti daranno diagnosi di tipo psicologico gli psichiatri di tipo psichiatrico e così via allora io non leggerò diciamo quella citazione di cui parlavo poco fa la scoprirete insomma leggendo il libro però spesso abbiamo ancora più o meno un minuto sante siamo quasi in coda ma mi appassionano molto spesso dentro i libri le pagine dei ringraziamenti perché in realtà tu scrivi che come un bambino vero papiro è nato piccolo come testo breve ed è poi cresciuto nel tempo fino a diventare il romanzo che avete tra le mani e qui c'è tutta una serie di ringraziamenti rispetto a quel debito di gratitudine nei confronti di un mondo diciamo molto articolato insomma nel quale tu vivi e che racconti diciamo in qualche modo anche dentro il libro che è il mondo diciamo della cultura in generale insomma è fondamentale diciamo essere grati diciamo a chi ci permette di costruire progetti culturali in questo tempo così complesso in cui la cultura fa fatica ad avere spazio so che può sembrare un po' come dire banale diciamo questa riflessione ma io lo percepisco tutti i giorni non so tu insomma nel tuo lavoro quotidiano assolutamente sì è fondamentale io sono veramente grato a tutte le persone che in qualche modo riescono collaborando con me nel mio lavoro di editore in quello di traduttore e soprattutto nella scrittura di questo libro a a farmi sentire meno solo perché a volte quello dell'editore vediamo i numeri dei lettori in Italia a volte si ha l'impressione di far parte di un mondo un po' autoreferenziale dove ciascuno legge i libri che pubblicano gli amici i colleghi e alla fine tutto si riduca qui avere invece un contatto esterno con il mondo aver avuto dei riscontri dai primi lettori che hanno letto Papiro in bozze quando ancora non era nemmeno completato insomma per me è stato davvero molto importante e quella pagina non potevo non metterla è una pagina di ringraziamenti che fa veramente parte del libro e anche noi allora ci sentiamo decisamente molto meno sole almeno noi che leggiamo con grande passione diciamo leggendo di Sante Bandirali Papiro pubblicato da Marco Simarcos siamo in coda Sante il tempo è volato io ti ringrazio molto per il tempo che ci hai dedicato spero sia stato un buon tempo anche per te grazie ancora per essere stato ad almeno due pagine al giorno grazie anche a te per la chiacchierata molto stimolante e buona lettura a tutti i nostri ascoltatori e allora intanto noi siamo in coda vi ricordo che domani e lunedì almeno due pagine al giorno non andrà in onda noi ci rivediamo martedì sempre a partire dalle 10 adesso spazio all'infotraffico al GR chiedo scusa e poi a Caffè Blu di Claudio Petronella ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti